A Bologna un comitato dei cittadini vuole difendere e valorizzare i prati di Caprara, bloccando i progetti di urbanizzazione nella zona, organizzando alcune passeggiate nell'area verde dietro all'ospedale Maggiore. Vediamo. Richiamano direttamente la natura del luogo, quello del ravone che costeggia l'omonimo canale e quello delle pozze nella parte boscosa. Altri due invece sono dedicati a personaggi celebri, a Pasolini che qui veniva a giocare a calcio, a Buffalo Bill che fece tappa a Bologna nell'Ottocento. Quattro itinerari per far conoscere i prati di Caprara, polmone verde della città, che il comitato rigenerazione e non speculazione danni difende da progetti di urbanizzazione, chiedendo che venga lasciato intatto. Si parla di 4 milioni e mezzo di alberi da piantare, ma noi qua ce li abbiamo già tanti. Intanto proteggiamo questi e poi incrementiamo piantandone altrettanti. Dopo un lavoro di riscoperta e pulizia, il comitato ha dunque organizzato con ingressi scaglionati e escursioni lungo i tre chilometri dei quattro sentieri. Una nuova iniziativa dopo le tante del passato. Picnic, passeggiate anche guidate. Adesso non facciamo nessuna passeggiata guidata, ma c'è un flusso di scorrimento individuale perché non vogliamo fare assembramenti.